Frank. Quando Frank si svegliò era un pitone. Un pitone confuso. Trasformarsi in un animale non lo turbava. Era una cosa che faceva in continuazione, ma non era mai passato da un animale a un altro durante il sonno prima di allora. Era sicurissimo di non essersi addormentato come un serpente. Di solito dormiva come un cane. Aveva scoperto di riuscire a superare la notte molto meglio se si accoccolava nel letto sotto forma di bulldog. Per chissà quale ragione i soliti incubi lo assalivano di meno. Le grida incessanti che gli risuonavano nella testa scomparivano, o quasi. Non aveva idea del perché fosse diventato un pitone reticolato, ma questo in effetti spiegava perché avesse sognato di ingoiare lentamente una mucca. Si sentiva ancora la mascella indolenzita. E recuperò la sua forma umana. E subito il mal di testa lancinante ritornò, insieme alle voci. «Combatti!» urlava Marte. «Prendi questa nave! Difendi Roma!» E la voce di Ares replicava, gridando a sua volta. «Uccidi i romani! Sangue e morte! Alle armi!» Le due personalità del padre strillavano nella mente di Frank con il consueto sottofondo di rumori di battaglia. Esplosioni, fucili d'assalto, motori rombanti. Un chiasso che pulsava come un subwoofer piazzato dietro le pupille. Frank si tirò su nel letto, con le vertigini per il dolore. Come ogni mattina trasse un respiro profondo e fissò la lampada sulla scrivania, una fiammella che ardeva notte e giorno, alimentata con l'olio d'oliva magico fornito dalla cambusa. Il fuoco, la sua paura più grande. Lasciare una fiammella libera nella cabina lo terrorizzava, ma lo aiutava anche a concentrarsi. Il chiasso nella mente si ritirò sullo sfondo, permettendogli di pensare. Era diventato più bravo a tenerlo sotto controllo, ma per giorni era stato uno straccio. Non appena al campo giove era esplosa la battaglia, le due voci del dio della guerra avevano iniziato a strillare senza tregua. E da allora Frank se n'era andato in giro imbambolato, capace a malapena di stare in piedi. Si era comportato come uno sciocco e i suoi amici dovevano pensare che fosse ammattito. Non poteva raccontare cosa stava succedendo, non potevano farci nulla e lui era certo che non avessero lo stesso problema, non sentivano di continuo i rispettivi genitori divini che gli strillavano nelle orecchie. La sua solita fortuna, ma doveva riprendersi. I suoi amici avevano bisogno di lui, soprattutto ora che non c'era Annabeth. Era stata gentile con lui. Anche quando era stato così distratto da comportarsi come un buffone, lei si era dimostrata paziente e disponibile. Mentre Ares strillava che non c'era da fidarsi dei figli di Atena e Marte ululava di uccidere tutti i greci, lui aveva imparato a rispettarla. In quel momento, senza di lei, Frank era quanto di più simile a uno stratega militare il gruppo avesse a disposizione. Avevano bisogno di lui per il viaggio che li aspettava. Si alzò e si vestì. Per fortuna era riuscito a comprarsi dei nuovi vestiti a Siena un paio di giorni prima, rimpiazzando il bucato che Leo aveva fatto sparire insieme a Buford, il tavolino volante. Storia lunga. Si infilò un paio di jeans e una maglietta verde militare. Poi fece per prendere il suo maglione preferito, ma si ricordò che non ce n'era bisogno. Faceva troppo caldo. E soprattutto, non aveva più bisogno di tasche per proteggere il pezzetto di legno magico che controllava la durata della sua vita. Hazel lo teneva al sicuro per lui. Forse questo avrebbe dovuto renderlo nervoso. Se il legno fosse bruciato, lui sarebbe morto, fine della storia. Ma si fidava di Hazel più che di se stesso. Sapere che lei lo custodiva lo faceva stare meglio. Era come una cintura di sicurezza allacciata in un inseguimento a rotta di collo. Si mise in spalla Arco e Faretra e subito le armi si trasformarono in un normalissimo zaino. Era una cosa che adorava. E non si sarebbe mai accorto di quella capacità della Faretra se Leo non lo avesse intuito al posto suo. «Leo deve morire!» ruggì Marte. «Schiaccialo!» gridò Ares. «Distruggi tutti! Perché ne stiamo ancora parlando?» I due ricominciarono a strillarsi a vicenda, coprendo il rumore delle bombe che esplodevano nella mente del ragazzo. Frank recuperò l'equilibrio appoggiandosi al muro. Da giorni sentiva quelle voci che esigevano la morte di Leo Valdés. Dopotutto, il figlio di Efesto aveva innescato la guerra al Campo Giove, bombardando con la balista il foro. Certo, all'epoca era posseduto, però Marte reclamava comunque vendetta. Leo complicava le cose prendendo costantemente in giro Frank e Ares esigeva che il figlio reagisse a ogni insulto. Frank teneva le due voci a bada, ma non era facile. Durante la traversata dell'Atlantico, Leo aveva detto una cosa che lui non riusciva a togliersi dalla testa. Quando avevano saputo che Gea aveva messo una taglia sulla loro testa, aveva voluto sapere a quanto ammontasse. «Posso capire di non essere prezioso quanto Percy o Jason, forse. Ma varrò quanto due o tre Frank messi insieme?» Era solo una delle stupide battute di Leo, ma lo aveva appunto sul vivo. Sul Largo 2, Frank si sentiva il membro meno indispensabile dell'equipaggio. Sì, certo, sapeva trasformarsi in qualsiasi animale. E allora? Il suo contributo più decisivo finora era stato trasformarsi in una donnola per scappare da un laboratorio sotterraneo, e perfino quella era stata un'idea di Leo. Frank era più conosciuto per il grande fiasco del pesce rosso gigante ad Atlanta, e soltanto il giorno prima, per essersi trasformato in un gorillone messo K.O. da una granata. Leo non aveva ancora fatto nessuna battuta sui gorilla, ma era solo questione di tempo. «Uccidilo! Torturalo, poi uccidilo!» Le due personalità del dio della guerra continuavano ad azzuffarsi, usando la scatola cranica del figlio come ring. «Sangue alle armi! Roma, guerra! Piantatela!» ordinò Frank. Incredibilmente le voci obbedirono. «Bene», si disse Frank. «Forse riusciva finalmente a tenere sotto controllo quei due mini-dei urlanti. Forse avrebbe passato una buona giornata. Una speranza infranta, non appena mise piede sul ponte.» «Quelli che cosa sono?» chiese Hazel. Largo 2 era ormeggiata su un molo molto trafficato. Da un lato c'era un canale concepito per il passaggio delle navi, largo circa mezzo chilometro. Dall'altro si estendeva la città di Venezia. Tetti di tegole rosse, cupole, campanili, case e palazzi colorati come caramelle. Rossi, bianchi, rosa e arancioni. Ovunque c'erano statue di leoni, sorrette da piedistalli, sopra la soglia dei palazzi e sui portici degli edifici più grandi. Ce n'erano così tanti che Frank ne dedusse che il leone era il simbolo della città. Al posto delle strade i quartieri erano solcati da canali d'acqua pieni di motoscafi. I marciapiedi erano gremiti di turisti che affollavano negozi e di souvenir, o sedevano pigramente in uno dei numerosi caffè all'aperto, come branchi di foche. Frank aveva pensato che Roma fosse piena di turisti, ma Venezia al confronto era un delirio. Esele e gli altri però non ci stavano facendo caso. Si erano affacciati tutti dal parapetto di Tribordo e fissavano incuriositi le decine di strani mostri pelosi che vagavano tra la folla. Ogni mostro era grande più o meno quanto una mucca, con la groppa inarcata come un vecchio ronzino, la pelliccia grigio sporco, le zampe magre e gli zoccoli caprini neri. I musilunghi da formichiere strisciavano a terra, mentre gli occhi erano coperti da una criniera grigia incolta. Frank seguì con lo sguardo una delle creature. Si muoveva lenta e pesante, aiutando e leccando il pavimento con la sua lunga lingua. I turisti la oltrepassavano senza battere ciglio. Alcuni la carezzavano perfino. Frank si chiese come potessero restare così calmi, poi l'aspetto del mostro tremolò e per un istante lo vide come un vecchio e grosso bracchetto. Jason fece un verso di scherno. I mortali li vedono come cani randaggi. «O come innocui animaletti da compagnia», osservò Piper. «Mio padre una volta ha girato un film a Venezia. Mi ha raccontato che c'erano cani dappertutto. I veneziani amano i cani». Frank aggrottò la fronte. Continuava a dimenticare che il padre di Piper era Tristan McLean, una stella del cinema. Lei non ne parlava molto. Sebbene fosse cresciuta a Hollywood, era una ragazza alla mano. «Fantastico! L'ultima cosa di cui avevano bisogno in quell'impresa? Erano dei paparazzi che immortalavano il figlio di Marty in uno dei suoi disastri colossali». «Ma che cosa sono?» chiese ripetendo la domanda di Hazel. «Somigliano a... muccheri insecchite e pelose travestite da cani pastore». «Forse sono innocui», suggerì Leo. «Stanno ignorando i mortali». «Innocui!» Gleason Edge scoppiò a ridere. Era vestito come al solito, pantaloncini corti da ginnastica, maglietta e fischietto d'allenatore. L'espressione era più burbera che mai, ma aveva ancora un elastico rosa impegliato fra i capelli, residuo dello scherzo dei nani di Bologna. Frank aveva troppa paura per farglielo notare. «Valdès, quanti mostri innocui abbiamo incontrato finora! Prendiamo la mira, spariamo e vediamo cosa succede!» «Meglio di no», replicò Leo. Per una volta Frank era d'accordo con lui. C'erano troppe persone. Sarebbe stato impossibile colpire uno di quei mostri senza ferire qualche turista. E poi, se quelle creature si fossero spaventate e imbizzarrite? «Dobbiamo passarci in mezzo e sperare che siano pacifici», disse, detestando già l'idea. «Non abbiamo altri modi per rintracciare il proprietario di quel libro». Leo si sfilò da sotto il braccio il manuale rilegato in pelle. Appiccicò un foglietto adesivo sulla copertina con l'indirizzo che i nani di Bologna gli avevano dato. «La casa nera», lesse. «Calle Frezzeria». «Calle Frezzeria è la strada», precisò Nico di Angelo. Frank cercò di non trasalire quando si rese conto che il figlio di Ada era al suo fianco. Quel ragazzo era così silenzioso e malinconico che sembrava quasi smaterializzarsi quando non parlava. Certo, Hazel era tornata dal regno dei morti, ma Nico era molto più simile a un fantasma di quanto lo fosse lei. «Sai parlare l'italiano?», gli chiese Frank. Nico gli scoccò un'occhiata di avvertimento, come a dire «attento a quello che chiedi». La sua voce però era calma. «Frank ha ragione. Dobbiamo trovare quell'indirizzo. E l'unico modo per farlo è muoverci a piedi. Venezia è un labirinto. Dovremmo correre il rischio di mescolarci tra la folla e quei… cosi». Un rombo di tuono scosse il cielo estivo senza nuvole. Avevano superato diverse tempeste la sera prima. Frank aveva sperato che fossero finite, ma non ne era più sicuro. L'aria era densa e calda, come vapore in una sauna. Jason scrutò accigliato l'orizzonte. «Forse dovrei rimanere a bordo. C'erano parecchi spiriti del vento nella tempesta di ieri. Se decidono di attaccare di nuovo la nave. Non ci fu bisogno che finisse. Tutti avevano avuto le loro brutte esperienze con gli spiriti del vento. E Jason era l'unico ad averli battuti. E Jason sbuffò. «Beh, mi tiro fuori anch'io. Se voi, tesorucci dal cuore tenero, avete intenzione di farvi una passeggiatina per Venezia senza neanche dare una mazzata in testa a quelle bestie pelose. Scordatevelo! Non mi piacciono le spedizioni noiose.» «Non c'è problema, coach.» Leo sorrise. «Dobbiamo ancora riparare l'albero maestro. E poi avrò bisogno del suo aiuto in sala motori. Ho avuto un'idea per una nuova installazione.» A Frank non piacque il luccichio negli occhi di Leo. Da quando aveva trovato la sfera di Archimede, aveva provato un sacco di nuove installazioni. Di solito esplodevano. Inondavano di fumo le cabine. «Beh, Piper mosse i piedi, imbarazzata. Chiunque di noi andrà deve essere bravo con gli animali. E io ammetto di non cavarmela granché con le mucche.» Frank intuì che doveva esserci una storia dietro quell'affermazione, ma decise di non indagare. «Vado io», disse. Non sapeva perché si fosse offerto volontario. Forse perché aveva voglia di rendersi utile tanto per cambiare. O forse non voleva che fosse qualcun altro a dire «animali? Frank sa trasformarsi in qualsiasi animale. Mandiamo lui.» Leo gli diede una pacca sulle spalle e gli passò il libro rilegato. «Fantastico. Se passi davanti a un ferramenta, mi prenderesti qualche tavola di legno standard e una latta di catrame?» «Leo, non stanno andando a fare shopping.» lo rimproverò Hazel. «Io vado con Frank», si offrì Nico. Frank sentì pulsare le vene negli occhi. Le voci degli dei della guerra si alzarono in un crescendo dentro la sua testa. «Uccidilo! Uccidi la feccia greca! No, adoro la feccia greca!» «E sei bravo con gli animali?» gli chiese. Nico sorrise senza allegria. «A dire il vero, la maggior parte degli animali mi odia. Percepiscono la morte. Ma c'è qualcosa in questa città?» Si incubì. «La morte è molto presente. Spiriti inquieti. Se vengo, forse riuscirò a tenerli a bada. E poi, come hai notato tu, so parlare l'italiano.» Leo si grattò la testa. «Morte, eh? Personalmente, è una cosa che eviterei volentieri. Ma voi divertitevi, ragazzi!» Frank non avrebbe saputo dire cosa lo spaventasse di più. Se i mostri mucca pelosi, le orde di spiriti inquieti o l'idea di andare da qualche parte insieme a Nico di Angelo. «Vengo anch'io?» Hazel lo prese a braccetto. «Tre è il numero perfetto per le imprese dei semidei, no?» Frank cercò di non sembrare troppo sollevato. Non voleva offendere Nico. Ma guardò Hazel e le lanciò un chiaro messaggio con gli occhi. «Grazie, grazie, grazie!» Nico osservò con attenzione i canali, quasi si chiedesse quali nuove e interessanti forme di spiriti maligni potessero annidarvisi. «Bene allora, andiamo a scovare il proprietario di questo libro!» Grazie a tutti! Grazie a tutti!